Ancora un'iniziativa, un'assemblea pubblica per parlare di questa acqua pubblica. Lei è capogruppo regionale di Selle, qual è la situazione in merito alla legge regionale che dovrebbe cambiare un po' la situazione? La Giunta ha mandato alla Commissione e ai consiglieri regionali le linee guida. Io le ho lette, secondo me sono insufficienti. Ho fatto una lettera il 4 febbraio, quindi non oggi, chiedendo che venissero modificate le linee guida in modo che il passaggio in Commissione e poi successivamente in Consiglio potesse essere un passaggio già arricchito di quei suggerimenti che secondo me sono indispensabili visto il quesito referendario. Da parte dell'assessore sembra ci sia una disponibilità a fare questo, dopodiché aspettiamo il facimento della legge. È chiaro che se la legge non conterrà tutti i suggerimenti che noi abbiamo chiesto e che sono opportuni e dovuti, io la legge non la voterò. Perché secondo lei è insufficiente da quello che ha visto finora? Perché era assolutamente superficiale. Io penso e spero che sia dovuto al fatto che, visti i tempi brevi e la ristrettezza dei tempi, sia stato solo un primo avvio. Da quello che mi dice l'assessore così è. Però un arricchimento è fondamentale, quindi l'Assemblea come oggi, l'iniziativa come oggi servono a discutere, ad arricchire e rafforzare questa tesi. Quindi tradotto al momento Civitavecchia potrebbe passare ad Aciato 2? No, tradotto al momento Civitavecchia sta in moratoria con l'ordine del giorno che abbiamo proposto noi in Consiglio regionale. Stiamo attendendo il facimento della legge e la legge speriamo e siamo sicuri e comunque pretenderemo che all'interno dia la possibilità ai comuni di gestire il servizio idrico con società speciale in house.